Campionato di Serie A 1988-89. Fu anche il torneo che fece conoscere a tutta la penisola il portiere di riserva del Napoli, Raffaele Di Fusco, protagonista di un episodio unico nel suo genere, assolutamente leggendario, che non si è mai più ripetuto e mai più si ripeterà, visti i regolamenti vigenti con il conseguente ampliamento delle rose. E la curiosità è questa, che negli ultimi minuti è sceso, ma giocando come attaccante, Di Fusco, che è in certo modo l'eterno portiere di riserva del Napoli, è sceso in campo giocando all'attacco.